Nel frattempo vorrei invitare il nostro padrone di casa, sindaco di Montecatini Terme, coordinatore nazionale Anci Giovani, Luca Baroncini. A lui ovviamente la relazione introduttiva dal titolo Costruiamo il futuro del paese, giovani amministratori in campo. Grazie sindaco, a lei la parola. Sei così bella, anzi bellissimissima, e ho pensato che il testo di questa canzone sia scritto proprio per l'Italia e a maggior ragione per l'Italia dei comuni, dei quasi 21.000 giovani amministratori che ne fanno parte, un modello di passione, di sacrificio, di servizio, di competenza, di coraggio, un modello appunto di bellezza. Siamo noi, siete voi, cari amici, l'Italia più bella. Fatevi un applauso. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla tredicesima Assemblea Nazionale di Anci Giovani. Benvenuti nella mia città, la città dove ho sempre vissuto e che amo, Montecatini Terme, città che è simbolo dell'accoglienza e del benessere e che in questi giorni saprà coccolarvi con la sua proverbiale eccellenza alberghiera ed enogastronomica, con i suoi ampi spazi verdi, con le bellezze del patrimonio monumentale termale, tutti elementi capaci di aumentare, si dice ma è così, il benessere psicofisico di chi vi trascorre qualche giorno e che ci hanno permesso di diventare nel luglio del 2021 patrimonio mondiale dell'umanità di UNESCO. In questi giorni cercherò di farvi capire perché la amo così tanto e spero di lasciare in voi la voglia di tornare presto a visitarla, assieme magari alle vostre famiglie, ai vostri amici. Grazie al Teatro Verdi, che ci ospita, tutto il suo staff, questo teatro ha visto e vede esibirsi i più grandi protagonisti della tv e della musica italiana. offre ogni anno una programmazione di altissimo livello, di cui sono e siamo come città orgogliosi ed è quindi per me una grandissima emozione essere proprio qua, nella mia città, nel nostro teatro, insieme a tutti voi. Gentile signor Ministro dello Sport e dei giovani, grazie di cuore di essere anche quest'anno con noi, con la sua comunità, signor Ministro, i giovani appunto. Un saluto al Governatore della Toscana Eugenio Gianni, che ci raggiungerà nel corso del pomeriggio. Buonasera al Presidente di Anci e Sindaco della stupenda città di Bari, Antonio De Caro. Caro Presidente, a Genova lo scorso ottobre è stata la tua ultima assemblea e ci hai emozionato con il tuo appassionato discorso, la tua ultima assemblea da Presidente, ma ti aspettiamo come sempre ogni anno. Grazie, grazie, grazie per quello che hai dato all'Associazione e a tutti i comuni in questi tuoi anni di grande impegno. Grazie per lo spazio e per l'attenzione che hai saputo e voluto dedicare ai giovani amministratori. Ti chiedo una cosa, Antonio. Quando arriverà il momento di un passaggio di consegne con un tuo successore, non dimenticarti ed anzi dai ampio spazio a raccontare l'importanza di Anci Giovani. Fai in modo che chi verrà dopo di te sappia con altrettanta longimiranza valorizzare quello che non è più ormai un semplice organo consultivo dell'Associazione, ma siamo diventati Anci Giovani, è diventata un interlocutore autorevole e di Anci e del Governo italiano a supporto e a fianco dell'Associazione, ma in contrasto sempre con un punto di vista ulteriore, a volte diverso, ma sempre a sostegno della linea complessiva di Anci. Un saluto ai due vicepresidenti, il vicario onorevole sindaco di Valdengo Roberto Pella, che proprio nella sessione subito successiva a questa mia relazione illustrerà tutte le misure che Anci sta portando avanti in favore dei comuni nell'ambito dello sport, della salute, del benessere. Il vice sindaco di Chiuduno, Stefano Locatelli, che invece interverrà nel panel sull'agricoltura. Grazie Roberto Pella per il lavoro che hai fatto e stai facendo a difesa della quota riservata ai comuni del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili e grazie quindi al Ministro Andrea Bodi, che ha fatto da sponda le richieste di Anci, consentendo all'Associazione di continuare a finanziare i progetti dei comuni a sostegno delle politiche giovanili alle quali necessariamente Anci Giovani è molto sensibile. Grazie Stefano Locatelli per tutto quello che stai facendo in questi anni, non solo in merito alla tua delega, ma anche per il ruolo che ti sei saputo ritagliare con merito di grande supporto ad Anci nei rapporti istituzionali, anche in seguito alle richieste che ti venivano dai tanti sindaci, ad esempio sul terzo mandato. E per tutte quelle azioni che riguardano l'attenzionare al Governo, ovviamente portate avanti assieme a De Caro e Appella, le esigenze degli enti locali italiani. Grazie Stefano per essere un prezioso punto di riferimento per tutti noi. Consentitemi di ringraziare Anci Toscana, abbiamo avuto i saluti istituzionali del Presidente Matteo Biffoni, saluto su tutti il Direttore Simone Gheri ed Anci Toscana Giovani, di cui ha portato poc'anzi i saluti la Presidente Francesca Brogi. Grazie ad Anci Toscana per la collaborazione a questa tredicesima Assemblea Nazionale che vede la nostra regione, in particolare la mia città protagoniste, ma direi in generale per il quotidiano lavoro che Anci Toscana porta avanti a supporto dei comuni. Ricordiamo ancora tutti noi sindaci toscani, ad esempio durante la pandemia, le preziose schede di Anci Toscana che tanto sono state importanti per facilitarci nella comunicazione con i cittadini, ma direi in generale per il costante supporto tecnico e la valorizzazione delle nostre città. Grazie. La Toscana ha affrontato lo scorso novembre il dramma dell'alluvione e i danni del maltempo sono stati drammatici. È doveroso un pensiero e un momento di raccoglimento per chi ha perso la vita per tutte quelle comunità che hanno subito danni ingenti. La Toscana ha affrontato lo scorso novembre il dramma dell'alluvione e il dramma dell'alluvione e il dramma dell'alluvione e il dramma dell'alluvione e il dramma dell'alluvione. La Toscana ha affrontato lo scorso novembre. I sindaci ci sono quando c'è una nuova attività che apre, quando c'è una notizia bella per la comunità, ma i sindaci ci sono anche e soprattutto quando accadono questi disastri in prima linea, accanto e per la nostra gente. E questo lo Stato lo sa, ma andrebbe sottolineato di più. Ecco che con piacere ho voluto alla nostra Assemblea invitare come uditori anche parlamentari, consiglieri regionali, perché non tutti hanno avuto il privilegio di fare il sindaco, lo accennava prima anche Biffoni. E' fondamentale che si parli la stessa lingua. In molti casi è già così, ma le occasioni sono buone tutte per fare rete, anche tra diversi livelli istituzionali e per parlare anche al di fuori dell'Associazione e non solo tra di noi. Desidero rivolgere un caloroso saluto a tutte le autorità presenti oggi, il prefetto di Pistoia, Sua Eccellenza Alicia Donatella Messina, il signor questore, i comandanti provinciali e locali di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato. La presenza di queste autorità qui oggi è preziosa testimonianza della grande collaborazione che esistere e che non può mai mancare tra istituzioni e di vicinanza alle problematiche e alle opportunità che ci sono nei comuni italiani. Consentitemi anche un ringraziamento, abbiamo visto prima le immagini, ai vigili del fuoco e a tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine che saranno impegnatissimi in queste due giorni per garantire lo svolgimento di questa Assemblea, ma per quello che fanno davvero quotidianamente, per tutti noi ringrazio la Polizia Municipale di Montecatini Terme, i volontari delle associazioni che sono qua e tutti i partner che rendono possibile l'organizzazione di questi eventi. Un grande applauso lo chiedo per i ragazzi e le ragazze del liceo musicale Niccolò Forteguerri di Pistoia che hanno eseguito il nostro inno nazionale con maestria. Ci avete fatto venire i brividi ragazzi, grazie. Così come rivolgo un grande grazie all'Istituto Alberghiero Ferdinando Martini di Montecatini Terme, un'eccellenza di livello nazionale e non solo nel ramo delle scuole alberghiere. Grazie anche ai docenti e dirigenti scolastici di queste due belle e importanti scuole e valori assoluto del nostro territorio. Grazie davvero e un applauso a tutti voi. Buon pomeriggio e soprattutto grazie a voi, giovani colleghi, amministratori che siate arrivati da tutte le parti d'Italia. Benvenuti alla tredicesima assemblea nazionale di anci giovani, tradizionale occasione di confronto tra buone pratiche ma anche di condivisione di problematiche, di esigenze e di sviluppo di proposte e richieste ai rappresentanti del nostro governo. Caro Presidente, caro Antonio, terminiamo insieme quest'anno le nostre presidenze. Infatti, come cantava Gioiola Cinquetti, non ho l'età o non ho più l'età perché ho superato il limite per essere considerato un giovane amministratore e quindi anche nel mio caso, come per te a Genova, Antonio, questa sarà la mia ultima assemblea come coordinatore nazionale di anci giovani e probabilmente questo mi farà molto emozionare. Però, come ci insegna proprio Antonio De Caro, si può e si deve essere giovani a qualsiasi età, nello spirito, nelle idee, nell'approccio alla vita pubblica, inteso come approccio di onestà, di purezza, di voglia di innovare, di speranza che non termina mai nella misura in cui si inseguono dei sogni. Ecco, questo spirito non mi vedrà e non ci vedrà mai invecchiare. Però consentitemi allora di ripercorrere velocemente questi anni alla guida dell'Associazione Giovanile, di cui sono così fiero e spero di aver dato un piccolo contributo che possa essere stato apprezzato al servizio dell'Associazione, del coordinamento nazionale e di tutti gli eletti dei comuni italiani. La mia esperienza in Anci inizia nell'ormai lontano 2014, quando appena eletto consigliere comunale mi iscrivo al Forza, nel corso di formazione specialistica di Anci, nato da un'idea del Vice-Segretario Antonella Galdi, a cui siamo grati anche per questo, come per tutto il suo impegno quotidiano e che è rivolto appunto ai giovani. All'epoca avevo solo 28 anni per la loro formazione e crescita all'interno dei comuni. Dal Forza ho capito quanto la mia passione per la politica e l'amministrazione pubblica dovesse essere alimentata quotidianamente con la preparazione e quindi con lo studio, ma anche attraverso il confronto orizzontale con i colleghi di altre parti d'Italia e, perché no, di altre idee politiche. Questo perché mi rendevo conto che da questo confronto crescevo ogni mese come se fosse un anno, così ho cominciato a frequentare anche i corsi di pubblica alla Scuola Anci, che è un autorevolissimo punto di riferimento secondo me a livello europeo nell'ambito della formazione degli amministratori pubblici e colgo l'occasione per invitare tutti voi a iscrivervi ai corsi di pubblica e provare ad accedere al Forzam, perché vedete la passione da sola non basta, ci sono già tante, troppe discriminazioni di volte al mondo giovanile, dobbiamo dimostrare il doppio di un meno giovane per vincere un fastidioso pregiudizio che questa Italia gerontocratica, lenta, burocratizzata porta sempre con sé e quindi dobbiamo studiare continuamente per arrivare preparati alle responsabilità a cui siamo chiamati. Nel 2019 poi sono diventato sindaco della meravigliosa città in cui siamo oggi e dopo pochi mesi ho avuto l'onore di essere scelto ed eletto dai coordinatori delle Anci regionali come vostro Presidente, raccogliendo il testimone dall'amico, allora sindaco di Pizzo Calibro, Gianluca Callipo, che ci ascolta in streaming e che saluto, salutiamo con un affettuoso applauso rivolto a lui e a tutti coloro che non possono essere qua ma che ci guardano da casa o dai loro municipi. Ho impostato la mia presidenza in questi anni con alcuni elementi di continuità rispetto al mio predecessore che condusse un ottimo lavoro e fece crescere il nostro movimento, ma anche portando alcune innovazioni, sempre assieme grazie a tutto il mio coordinamento nazionale, come l'introduzione di un metodo maggiormente partecipativo che coinvolga e valorizzi l'identità delle Anci giovani regionali, metodo che su proposta del Vice Sindaco di Lanuvio Valeria Viglietti ha riguardato anche ad esempio l'individuazione annuale dei temi delle assemblee che oggi arriva attraverso un meccanismo partecipativo dal basso, nel senso dai territori. Anche le assemblee sono notevolmente cambiate in questi anni, mai così tanti giovani coinvolti nei vari panel come quest'anno. Per la prima volta avremo una sessione di confronto e quindi un'assemblea che diventa bidirezionale, incentivando un messaggio finale che ci dobbiamo portare a casa dopo questi due giorni, che sia frutto non solo dei momenti dal palcoscenico rivolti alla platea, ma anche viceversa, ovviamente con modalità e tempi che non compromettano i lavori e una leggera fruizione dell'assemblea stessa. Quando ho avuto l'onore di essere eletto come vostro presidente mi imposi l'obiettivo di far crescere la consulta giovanile, incrementando la partecipazione alle attività dell'associazione da parte dei giovani amministratori. Devo dire con orgoglio che durante il mio mandato, grazie non a me ma a tutti voi, non solo è notevolmente aumentato il numero dei giovani in contatto con Anci e con le attività della scuola di Anci, ma non temo smentita nell'affermare che siamo arrivati ad essere un interlocutore del Governo ed in generale dell'associazionismo giovanile. Se pensiamo all'assemblea nazionale è innegabile che le prime edizioni siano state preziose e fondamentali, perché senza quelle oggi nessuno di noi sarebbe qui, ma l'assemblea dei giovani nasce come un raduno rivolto ai giovani, forse autoreferenziale, prezioso, ricco di contenuti anche di alto livello, con meno di un centinaio di partecipanti. Oggi l'assemblea è diventato uno degli eventi rivolti ai comuni in assoluto tra i più importanti in Italia, capace di richiamare l'attenzione dei media nazionali, capace di muovere 500 iscritti ogni anno, con il prestigio e l'onore di ospitare diversi ministri della Repubblica. Lo scorso anno furono tre, quest'anno quattro. Segno da un lato che il Governo italiano è sempre più attento e sensibile al mondo giovanile e anche di questo vi siamo grati signor Ministro. Segno dall'altro che l'Associazione ha voluto e saputo valorizzare e far crescere la consulta giovanile, ma segno anche, lasciatemelo dire, che abbiamo saputo diventare un punto di riferimento che ogni anno non si limita ad una passerella che non servirebbe e non interesserebbe a nessuno, ma siamo diventati un movimento che elabora proposte, idee, esigenze da rivolgere al Governo, coinvolgendo un numero significativo e sempre maggiore di eletti dei comuni italiani, proposte che in diversi casi sono state ascoltate e portate avanti. Oggi non siamo testimonianza, oggi noi siamo rappresentanza, siamo oggi un movimento di opinione che ha un suo peso a livello nazionale, a braccetto e a supporto, come detto prima, di Anci e questi sono risultati, fatti concreti, non sono chiacchiere, questi sono risultati che ha raggiunto il coordinamento nazionale di cui, lasciatemelo dire con un po' di emozione, sono profondamente orgoglioso e dovete voi per primi essere orgogliosi perché non sono i risultati questi che ho elencato di Luca Baroncini, ma sono i risultati della nostra famiglia di Anci Giovani, della nostra comunità, dei coordinatori regionali, dei miei vice, delle Anci Giovani regionali. Io sono orgoglioso di voi, sono orgoglioso di noi, di dove siamo arrivati, partendo da un raduno e arrivando fino a fare proposte al nostro Governo e ancora tanto possiamo e dobbiamo crescere. Io passerò il testimone ma la sfida è ancora apertissima. I dati, infatti, non sorridono ancora gli under 36 in Italia ed è risultato evidente anche nel 2023 un divario generazionale in termini di opportunità. I più giovani hanno molte meno possibilità di accesso ai ruoli di amministratore pubblico rispetto agli over 36, dato ancora peggiore se si parla di giovani donne. Eppure la nostra generazione è quella più preparata, con il titolo di studio medio più alto, nonché quella più performante nei consigli comunali e nelle giunte. Solo il 16% del totale degli eletti nei nostri comuni ha meno di 36 anni. Nel 2022 eravamo il 18%, dunque continuiamo a diminuire. Ma il dato è ancora più preoccupante se guardiamo agli ultimi 23 anni, dal 2000 a oggi. Gli ultra sessantenni nei nostri comuni erano nel 2001 l'8%, oggi sono il 22%, sono quasi il triplo. Gli under 36 per contro nel 2001 erano il 23% e oggi, come detto, sono soltanto il 16%. È pur vero che l'Italia vive un preoccupante invecchiamento anche demografico, che però è minore rispetto all'invecchiamento delle istituzioni locali. E questo non è un bene. Non è un bene perché, come detto, i numeri dicono anche che i giovani amministratori, anche nel 2023, sono mediamente più preparati rispetto ai meno giovani. Il 44% dei giovani è laureato contro il 35% dei non giovani. Il 18% degli over 36 ha soltanto la licenza media. Questo accade solo al 6% dei giovani. Ora, basta con i numeri. non ne voglio neanche fare un tema di scontro o di confronto tra generazioni. Non c'è una generazione migliore dell'altra. Anzi, nella scorsa assemblea, lo scorso anno, a Treviso, saluto il sindaco che ci ha raggiunto, il sindaco Mario Conte, l'assemblea dello scorso anno a Treviso ho raccontato anzi come le diverse generazioni siano preziose insieme, come l'esperienza e l'età siano un valore su cui il paese deve far leva. Però credo anche che ci debbano essere pari opportunità di accesso alle cariche pubbliche e credo che ci si debba interrogare, a cominciare da questa assemblea, su come incentivare la partecipazione dei giovani al voto. Più bassa anche quella rispetto ai meno giovani. Andiamo meno a votare. E incentivare la candidatura ovviamente nelle liste, perché sempre meno giovani sono disponibili a candidarsi. Dobbiamo capire come fare per invertire questa tendenza. Credo sarà un argomento da dibattere in questa assemblea. Personalmente non credo al meccanismo delle quote, non credo ne servano altre quantomeno, però ascolteremo e ascolteremo, come sempre, le vostre proposte. Veniamo agli obiettivi dell'assemblea 2020. Sarà una due giorni ricca di temi interessanti e di proposte concrete. Oggi parleremo come anticipato di sport, ascoltando anche il ministro Andrea Bodi, di PNRR, di fondi europei e concluderemo con un panel sull'agricoltura. Tema attualissimo, come vediamo dalle proteste degli agricoltori dei giorni scorsi, a difesa del made in Italy e dei nostri prodotti tipici, che dobbiamo proteggere con orgoglio, perché sono uno dei nostri maggiori elementi di vantaggio competitivo nel mondo e che possono e debbono quindi generare lavoro e ricchezza. Sul tema interverrà il sottosegretario Patrizio Lapietra, che saluto e che ringrazio. A proposito di prodotti tipici e di benessere, concluderemo la giornata alle 19.30, non qua, ma allo stabilimento Tettuccio, che si trova qui vicino, a 400 metri, quindi ci andremo tutti a piedi, che fa bene, se no, appunto, oltre allo sport, anche semplicemente l'attività motoria quotidiana, è salute e troveremo qua vicino una buonissima degustazione di prodotti tipici, rigorosamente tipici, toscani, in una cornice mozzafiato, in quello che molti ritengono lo stabilimento termale più bello del mondo e desidero quindi ringraziare le associazioni Città del Vino, Città dell'Olio, oltre a Coldiretti Toscana Giovani e Confagricoltura e a tutti quei partner, anche privati, che hanno reso possibile la degustazione di stasera. Non facciamo tardi stasera, però, con i festeggiamenti, perché domattina inizieremo puntuali alle 9.30, ascoltando il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a seguire il panel sul turismo, dove faremo anche un focus, qui c'è un piccolo conflitto di interessi, ma faremo anche un focus sul termalismo, segmento del turismo di cui non si parla mai abbastanza e che ha invece grandissime potenzialità e che abbiamo anche il dovere come associazione di tutelare e di difendere. E parleremo anche di turismo accessibile e inclusivo e lo faremo assieme ai ministri Daniela Santanchè e al ministro delle disabilità Alessandra Locatelli. Parleremo di ambiente e di sostenibilità nello sviluppo delle nostre città e infine avremo le due ore aperte per il confronto tra amministratori coordinate da Roberto Bazzarello e Rene Ciaffoncini, confronto che rappresenta una delle citate innovazioni di questa Assemblea al fine di aumentare il coinvolgimento di tutti, prima delle conclusioni che arriveranno intorno alle 14 di domani. Cari amici, cari colleghi, le giovani generazioni a livello globale stanno attraversando un periodo davvero preoccupante, dalla pandemia ai cambiamenti climatici e poi la guerra per la prima volta la nostra generazione sta vivendo quella che Papa Francesco ha definito una guerra mondiale a pezzi e non va meglio purtroppo come sistema paese. L'Italia registra una crisi di partecipazione e ingaggio dei giovani nelle politiche pubbliche, è un dato di fatto che i giovani siano sempre meno coinvolti nei processi decisionali, lo dicevano i numeri di prima, che indirizzano la vita, che indirizzano l'individuazione degli investimenti ai vari livelli di governo. Per contrastare questo serve produrre conoscenza analizzando i fenomeni e i dati che riguardano i giovani, i loro fabbisogni, valutando gli impatti economici e sociali sui giovani di misure e di investimenti messi in campo che non siano destinati anche non necessariamente in maniera diretta alla popolazione giovanile, ma che dovrebbero comunque impattare sui giovani a livello di sistema. Al di là delle misure declinate come politiche giovanili, finalmente ci si interroga sul cosiddetto impatto generazionale degli investimenti e degli interventi messi in campo dalle amministrazioni centrali, regionali e locali. Sta per diventare realtà anche in Italia lo strumento che a Bruxelles viene denominato lo Yacht Check e che trova già applicazione da qualche anno nei parlamenti di Germania e di Austria, ovvero un sistema di valutazione dell'impatto che gli investimenti pubblici hanno sulle nuove generazioni, ad esempio in termini di accessibilità da parte dei più giovani e di sostenibilità, distribuzione della ricchezza, parità di opportunità tra generazioni e su questo c'è da dire che a livello nazionale il Consiglio dei Ministri, nel dicembre scorso su proposta del nostro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei Ministri Casellati e Zangrillo, ha approvato infatti il disegno di legge per la semplificazione normativa tra i vari provvedimenti per i quali si richiede delega, spicca appunto la valutazione di impatto generazionale delle leggi. È un segnale estremamente positivo di cui, signor Ministro, vi siamo grati e diverse amministrazioni comunali stanno sperimentando da alcuni mesi proprio questa valutazione di impatto generazionale sugli investimenti previsti nel DUP dei Comuni. La prima in Europa è qua, il Comune di Parma, la cui assessora Beatrice Aini, con delega alla Comunità giovanile, è tra i relatori di questa tredicesima assemblea, complimenti a lei, complimenti al Comune di Parma per questo prestigioso traguardo. Anche Anci, con l'osservatorio sulle politiche giovanili a impatto locale, ha avviato un'azione di analisi e valutazione delle progettualità comunali finanziate dal Fondo Nazionale per le politiche giovanili. L'ambizione di Anci è quella di valutare gli impatti economici e sociali di queste progettualità e degli investimenti analizzati, per poi formulare indirizzi, orientamenti e proposte ai soggetti istituzionali competenti. Occorre immaginare politiche e servizi nuovi in grado di trattenere nuove competenze e professionalità nel Paese in generale, soprattutto giovani e anche nei territori più fragili, come le aree interne. In particolare, occorre rendere attrattivi i nostri territori e le comunità per i giovani, creando una condizione di contesto favorevole alla crescita economica e sociale ed in termini di servizi, anche innovativi e quindi adatti al mondo giovanile. Il mio auspicio, e concludo, per il futuro è quello che programmi e investimenti siano sempre di maggiore impatto per la popolazione giovanile, perché solo investendo bene nelle nuove generazioni possiamo far sì che cresca l'Italia più bella e di conseguenza che ne guadagni il Paese tutto. Grazie, grazie di cuore per quello che abbiamo fatto insieme in questi anni, grazie alla struttura, per quello che mi avete dato, per il contributo fornito all'Associazione. Adesso avanti determinati verso nuovi traguardi, ringrazio davvero il segretario generale Veronica Nicotra, Anci Comunicare, Patrizia Minnelli, Danilo Moriero, tutto lo staff della comunicazione, l'ha già citata Antonella Galdi e davvero non posso adesso citare tutti, lo farò magari nelle conclusioni, però per me è un momento veramente emozionante, ma non smetterò mai di far parte della vostra e della nostra famiglia. Viva Anci, viva Anci Giovani! Viva Anci Giovani! Viva l'Italia, l'Italia più bella, quella dei comuni e dei sindaci. Grazie di cuore a tutti.